A Bagnoli vogliono fare una sorta di hub provinciale per l'accoglienza dei finti profughi, dei clandestini. È nato un comitato spontaneo che non ha nulla a che vedere con i partiti, con la politica, che non vuole questi clandestini. Dicevo che voglio esprimere la vicinanza a quel sindaco e ai comitati perché diciamo di no all'hub provinciale come diciamo di no a qualsiasi centro per l'accoglienza dei clandestini. Perché del debito, mi scusi, ma io non ho capito una cosa, è risaputo credo che nei teatri di guerra si mangi caviale e si beva champagne. Credo che questo lo sappiano tutti perché d'altronde se è vero, come è vero, che questi sono profughi e quindi che scappano dalla guerra, il fatto che non apprezzino il cibo che noi gli diamo gratuitamente significa che nei teatri di guerra mangiano caviale e bevono champagne. E allora possono ritornare domani mattina nei teatri di guerra dove mangiano molto meglio e va di bene, hanno anche le docce più calde perché qui vogliono una doccia fredda e abbiamo 40 gradi all'ombra. Arrivano dal polo nord questi signori qua, non ho capito.